So che sto facendo qualcosa di non facile. Grande responsabilità, avete visto anche come ci hanno accolto e chi ci sta seguendo. Tutto quello che viene da qui in poi è nuovo per tutti. Quindi cerchiamo di viverlo alla grande, perché è un momento che non viveremo mai più. No, 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 no. No, no.